ciao ragazzi ben ritrovati sul canale jacopo di live italy in questo video vi voglio far vedere il percorso che ho fatto per girare i cotswold vi faccio vedere in un giorno cosa si può fare che villaggi vedere come attraversarli ovviamente per fare questo viaggio di un giorno questa escursione di un giorno ci vuole una macchina e ci vuole una decina di ore noi siamo partiti alle 10 del mattino e siamo tornati a casa alle 7 8 di sera e senza perdere tempo andiamo a guardare la cartina ecco la perfida albione l'inghilterra ignorate tutti i miei le mie bandierine andiamo a cercare i cotswold i cotswold sono qui e questa zona verde se vedete il mio mouse tutta questa zona verde e a destra qui abbiamo londra quindi in linea d'aria saranno 150 chilometri circa qui abbiamo bristol e qui abbiamo birmingham quindi è il triangolo tra bristol londra birmingham ci sono i cotswold allora io ho esplorato solo la parte la metà alta questa qua dalla prima bandierina in su sicuramente ci sarebbe altro da vedere sotto però visto le distanze i tempi in un giorno era impossibile pensare di andare a vedere tutto ora andiamo a vedere il primo percorso che prima cittadina che abbiamo visitato la prima è questa qua è la mitica biburi biburi e merita qua vi dovete fermare un'oretta vi andate a vedere arlington row se magari il covit ve lo permetterà e lavorano riaperta e poi fate una passeggiata qui c'era la farm delle trote vi bevete una birrettina un caffè e poi ripartite un'oretta biburi ve la fate poi prossima destinazione andate a burton on the water questa è molto bella anche qui un'oretta magari anche un'oretta e mezza ve la girate vi fate mare un giro anche nelle zone attorno ci sono un po di laghetti un po di canali nel verde qualche passeggiata carina anche qui un'oretta un'oretta e mezza molto bella burton poi a un tiro di schioppo c'è mi ero segnato copse il rod che era un'altra che è sì lower slaughter c'era mi ero segnato e upper slaughter ora noi siamo passati in auto non ci siamo fermati perché alla fine della fiera c'era il covid i bar i ristoranti erano chiusi e comunque erano sempre l'ennesimo paesino con i cottage tipici quindi se volete vi guardate questi due poi fate altri dieci chilometri e potete arrivare arrivare a sto on the world stone the world se non ricordo male è un paesino su una collina dove merita la santa edwards church andatevi a vedere questa anche qui vi fate una mezz'oretta magari poi si può proseguire verso moreton in the ma in marsh e anche qui ci hanno fermati dieci minuti siamo passati in macchia non ho notato robe particolari da vedere in moreton on the marsh qui avete blocli che è un altro paesino villaggetto in cui c'è una collina la chiesa di san peter vi fate la traversate salite andate sulla collinetta qua vi vedete un po la natura e vi siete fatti blocli a quel punto mi ero segnato anche mickelton ma non ci sono andato perché andava un po fuori strada poi mi ero segnato anche aston under aston and the real ma andando poi di cui il viaggio sarebbe diventato troppo lungo quindi da qua poi siamo tornati indietro siamo andati a kingam che è stata se non ricordo mai l'ultima tappa siamo visti kingam e quindi ci siamo fatti tutta questa parte di cozzur siamo visti tutte le cose principali in una giornata ricapitolando biburi burton upper slaughter a c'è anche naunton che non non ho visto però magari merita me l'ho segnata cercando quindi magari potete fermarvi a naunton stone the world block lee marathon marsh e kingam questo è quanto questo è il percorso un percorso fattibile in questa zona tutto in una giornata quindi buona esplorazione fatemi sapere se chi di voi è già stato qui se c'è qualche altra cittadina che ci siamo persi che merita di vedere di essere vista e ci vediamo al prossimo video tanti saluti ciao